Teatro, musica, arte, danza, cineforum, sfilate nella suggestiva cornice di Villa Macrina. Prosegue con successo, estate in villa, la rassegna di eventi estivi patrocinati dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Palumba, assessorato, cultura ed eventi guidato dal vice sindaco Enrico Pensati. Un ricco cartellone di appuntamenti che arricchiranno con tantissime date il periodo estivo per chi resta in città e non solo. Dopo il successo dell'associazione teatrale Giovanni Pernice con lo spettacolo Terno Secco, nello scorso fine settimana, stasera e nel weekend, sarà la volta di Antonello Aprea, regista dello spettacolo Donna Rosa, la serva padrona, a cura dell'associazione Teatro di Donna Peppa. Per tutte le info e per il calendario degli appuntamenti è possibile seguire la pagina Facebook Estate in Villa con lo spot promozionale della rassegna.